In collaborazione con Mubarak, servizi di sgombero, trasporti nazionali ed internazionali e pulizia in genere. Poteva provocare una strage l'incendio che questa notte verso l'una e mezza ha interessato il bar del peso di Costigliole d'Asti. I carabinieri hanno trovato tracce di benzina nel locale e solo grazie all'intervento di alcuni ragazzi di passaggio le fiamme hanno interessato solo la vetrina e l'ingresso del bar. Se l'incendio si fosse sviluppato all'interno, come probabilmente era intenzione dei piromani, avrebbe sicuramente provocato lo scoppio delle bombole del gas e coinvolto l'intero condominio. Ieri sera il bar era chiuso per turno, i passanti hanno notato le fiamme e provveduto a circoscrivere il rogo in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco. I carabinieri, coordinati dal capitano Lorenzo Repetto, comandante della compagnia di Canelli, hanno avviato le indagini. Pare non ci siano state minacce o richieste di estorsione. Le immagini delle telecamere di sicurezza potrebbero chiarire quanto accaduto e contribuire all'individuazione dei responsabili. E domani, giovedì, anche i farmacisti dell'Astigiano aderiranno allo sciopero regionale per contestare i tagli contenuti nel decreto spending review. Pur con rammarico hanno sottolineato i vertici di Federfarma a Piemonte, rendendoci conto che si creerà disagio, soprattutto alle fasce più deboli, ci vediamo costretti a scioperare e a tenere chiuse le serrande per protestare contro un governo che taglia i farmaci per i cittadini e non interviene sugli sprechi. Sul territorio provinciale saranno comunque attive le farmacie di turno. E qui nell'Astigiano continua a far molto discutere l'accorpamento della provincia di Asti. Lunedì la Presidente Onorevole Maria Teresa Armosino ha convocato una riunione nel Salone Consigliare invitando i sindaci e i sindacati. Ci siamo confrontati, ha spiegato la Presidente, sulle prospettive di attuazione indicate dalla riforma sull'accorpamento delle province e sulle eventuali azioni da intraprendere. Se non ci saranno interventi correttivi sul provvedimento del Governo, a fronte dei consistenti tagli ai trasferimenti dello Stato agli enti locali, il bilancio provinciale subirà drastiche modifiche, cui seguirà inevitabilmente l'impossibilità di garantire taluni servizi ai cittadini. Ricordiamo che dipendono dalla provincia la manutenzione degli edifici che ospitano gli istituti di istruzione secondaria superiore, la viabilità intercomunale, i trasporti locali, la formazione professionale e i servizi per l'impiego. Alla riunione hanno anche partecipato i parlamentari astigiani Massimo Fiorio e Sebastiano Fogliato, l'assessore regionale Giovanna Quaglia, i consiglieri regionali Angela Motta e Rosanna Valle. E proprio la giunta regionale ha approvato lo stanziamento di un milione di euro per il recupero e il restauro del Museo Paleontologico di Asti. L'allestimento nella struttura del Michelerio costerà in totale 1.250.000 euro. Il Museo Paleontologico Astigiano diventerà così il più importante del Piemonte e sarà sicuramente un richiamo per il turismo. Passaggio di consegne al nucleo di polizia tributaria di Asti. Dopo cinque anni di permanenza nel capoluogo, il tenente colonnello Luca Vassena, trasferito alla sede di Bologna, ha ceduto ad interim in attesa di una nuova nomina il comando del reparto al suo principale collaboratore, il capitano Giuseppe Astre. Nei giorni scorsi il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Antonio Borgia, ha salutato l'ufficiale in partenza a nome di tutti i finanzieri in servizio nella provincia. E con questo da Asti è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci alle prossime edizioni.